La partita comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei voti delle schermi gioca il bacio immobiliare in completo nero. Dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei voti delle schermi. Si schiera invece il checco dello scapicollo in completo interamente arancione. Il primo possesso della partita sarà per i padroni di casa del bacio immobiliare che battono con Morezzi che gira subito sulla sinistra in direzione di un compagno. Il primo palleggio gestito dagli uomini del mister Matteo Dupachie con Colucci che viene subito attaccato dal reparto offensivo del checco dello scapicollo che però non riesce a conquistare il possesso. Palla fuori ancora rimessa per il bacio immobiliare e subito lancio in verticale in direzione degli attaccanti con il numero 14 che non riesce però ad intercettare la sfera. Rimessa laterale gestita ancora dai giocatori nella maglia arancione con Acquozzo che viene subito prestato dall'attacco della parte immobiliare che recupera attenzione alla palla in mezzo in direzione ancora di Morezzi che riesce a salvarla, poi la mette in mezzo, poi l'arbitro però fischia che il pallone era evidentemente uscito e quindi concede la rimessa dal fondo al portiere della checco dello scapicollo. Subito ancora lancio in direzione degli attaccanti colpo di tacco ad aprire in direzione di Simonetta che gira sulla destra verso Gaeta che può andare alla conclusione. Primo tiro della partita finisce fuori alto sulla traversa della porta difesa da Mirko del Proposto che la rimette in campo ancora Colucci verso Morezzi che riesce a salvarla dal fallo laterale poi però perde il possesso, attenzione a Simonetta che va ancora ad un tiro secondo tiro consecutivo nel giro di 5 minuti, di 5 secondi scusate palla che termina direttamente fuori, ancora 0-0 siamo giunti ormai al secondo minuto di gioco, 23 primi alla fine di questa prima frazione 0-0 tra il bacio immobiliare che coda lo scapicollo con gli ospiti che attaccano ancora attenzione a questa palla gestita dal numero 10 che può andarsene in mezzo a 3 slalom, poi conclusione alla fine in qualche modo riesce del proposto ad andare a a cancellare questa sfera, ancora una conclusione insidiosa da parte della squadra arancione ora subito dall'altra parte, attenzione al movimento da parte di Morezzi che va a ricevere la sfera vediamo se allarga verso Colucci che si era sovrapposto preferisce girare sulla sinistra verso il numero 3 ovvero Darpino che però non riesce a mantenere il possesso fallo laterale per il lacheco dello scapicollo con Cuozzo che gira all'indietro ora ancora tentativo da parte di Simonetta di spizzare di testa con il lacheco che avanza ancora c'è largo sulla sinistra il numero 7 che può ricevere la sfera è forse un po' troppo arretrata 1-1 contro Colucci va ancora da Cuozzo che manovra a centro campo prova adesso ad avanzare il numero 6 che salta un avversario se ne va sulla destra è chiuso dalla difesa del bacio immobiliare partita in questo momento a ritmo lento adesso ricomincia dalla difesa del accheco dello scapicollo con Gaeta che gira verso Cortese pressato ancora dagli attaccanti del bacio immobiliare Cortese apre sulla destra attenzione al pressing da parte di Ponziani sempre verso il portiere quindi ancora Cortese possesso palla continuato da parte del accheco dello scapicollo che adesso va in avanti apre sulla sinistra ancora la squadra di un arancione che va ancora ad un tiro che termina alto sulla traversa molto attivi nel corso di questi primi minuti e le numero 10 Simonetta e le numero 7 di Palma per il accheco dello scapicollo l'altra parte bacio immobiliare che aveva cominciato abbastanza bene si è adesso rinchiusa nella propria metà campo e ha qualche difficoltà a mantenere il possesso attenzione al pressing altissimo da parte di Cuozzo che cerca di togliere il pallone ai portatori di palla avversari che adesso però la recuperano con Amorezzi che poi gira verso un compagno ancora triangolo verso il numero 10 che va a crossare in mezzo colpo di testa da parte della difesa del checco dello scapicollo con Arpino che favorisce l'uscita del portiere Cortese Cuozzo ancora per il numero 5 playmaker difensivo che allarga sulla destra sempre per D'Arpino ottima chiusura difensiva nell'azione precedente gira ancora sulla sinistra con l'attentativo da parte di uno contro uno di Simonetta adesso riceve ancora Di Palma che prova ad accentrarsi alla palla sul destro va ancora in mezzo da Cuozzo intercetto dalla difesa del bacio immobiliare partita che non decolla in termini di ritmo ora attenzione a D'Arpino che la dà in mezzo verso Simonetta che aggancia col sinistro un rimpallo favorisce ancora Di Palma che prova a difendere dall'attacco di Morezzi alla fine l'ultimo tocco è dello stesso Di Palma e Colucci va a conquistare la rimessa laterale sulla destra per il bacio immobiliare ancora in direzione del numero 11 che però viene fermato quindi Cortese gestisce il possesso verso D'Arpino non presta l'attacco del bacio immobiliare con il checo dello scapicolo che può costruire la manovra adesso perde la palla la recupera Morezzi a centrocampo in mezzo a due l'arbitro però fischia fallo calcio di punizione per i padroni di casa quinto minuto di gioco 20 alla fine di questo primo tempo ancora 0-0 tre conclusioni in porta da parte del checo dello scapicolo ma nessun reale pericolo per i pali difesi da Mirko del proposto adesso bacio immobiliare in possesso palla con anche Abbonetti che avanza lungo lancio in direzione ancora degli attaccanti troppo lungo niente da fare per questo suggerimento da parte di Lanzi che ha cercato il compagno sulla fascia sinistra palla che termina direttamente fuori e la rimette in campo ancora D'Arpino Cortese adesso pressa però la squadra di casa che prova a portare via la palla dei piedi del numero 5 che pesca di palma addirittura col tacco all'indietro verso un compagno sempre da Cortese pressing altissimo adesso si è alzato il ritmo della partita Lanzi recupera centrocampo Moresi spizza ancora per gli attaccanti ma perde la palla la recupera Cuozzo che avanza palla al piede supera le linee di centrocampo cerca il passaggio in profondità per l'inserimento ancora di D'Arpino troppo lungo questo suggerimento che termina sul fondo del proposto la rimette in campo Lanzi prova ad avanzare Moresi si fa incontro in mezzo a due preferisce andare ancora da un accompagno che gira sulla destra lancio intercettato la recupera ancora il checco dello scapicollo adesso passaggio in verticale verso Di Palma passaggio sbagliato fuori misura riesce ad uscire Mirko del proposto che scarica il pallone direttamente tra i piedi di Moresi ancora un errore in palleggio per il bacio immobiliare che prova adesso ad uscire con Moresi che prova a fare tutto da solo l'arbitro gli fischia una calcio di posizione che va a battere in questo momento baci immobiliare con qualche difficoltà nella costruzione della manovra che è quello dello scapicollo che cerca di pressare i portatori di palla avversari per riuscire a guadagnare il possesso adesso ancora Lanzi con la palla al piede gira sulla destra verso Moresi non c'è movimento da parte degli attaccanti della squadra in enero che adesso vanno ancora da Ponziani che prova ad andarsene va la conclusione attenzione un tiro insidioso che viene deviato in calcio d'angolo il tiro è stato tentato dal numero 14 ovvero Placido e non da Ponziani quindi deviazione sulla traversa da parte del portiere del checo dello scapicollo che è riuscito in qualche modo a evitare questo pericolo potenziale calcio d'angolo sulla destra attenzione alla palla sulla secondo palo ancora per Placido che però la perde doppio in palo che favorisce Gaeta che se ne va sulla destra uno contro uno percussione sulla destra Gaeta prova a metterla in mezzo trova solo Maglianera qualche difficoltà a Morezzi che poi alla fine riesce ad uscirne con esperienza scaraventa la palla addosso a Di Palma e conquista un palo laterale sulla destra quasi ottavo minuto di gioco occasione qualche secondo fa per Placido Placido con la conclusione aveva tentato di scavalcare il portiere una deviazione aveva concluso addirittura la sfera quasi sopra la traversa poi deviata da Molonna attenzione alla palla ancora sulla sinistra per il bacio immobiliare che attacca Placido in mezzo a due avversari preferisce allargarsi c'è Lanzi che va a ricevere la sfera sulla destra disponibile Colucci palla di ritorno ancora per Placido uno contro uno sulla sinistra salta un avversario entra in area palla in mezzo attenzione alla conclusione respinta qualche protesta da parte dei giocatori in campo con la bacio che reclamava un fallo di mano l'arbitro non fischia c'è ancora il vantaggio perde la sfera adesso Lanzi contropiede uno contro tre da parte di Simonetta che viene però fermato dall'importantissimo take al difensivo da parte di Fonziani che adesso se ne va sulla sinistra c'è ancora verso Placido un movimento in mezzo da parte di Morezzi Placido si accentra conclusione col destro ennesima deviazione e ennesimo fallo laterale sulla destra per il Baci immobiliare che va a battere in questo momento con Colucci con le mani ancora verso gli attaccanti attenzione in mezzo a due azione personale da parte del numero 11 che viene fermato Quozzo la recupera gira verso Simonetta che allarga sulla destra dove c'è Gaeta Darpino dietro a lui vediamo se prova il passaggio verso il numero 3 che viene pressato ancora dall'attacco del Baci con il numero 11 Tombesi che ancora una volta si è reso pericoloso dalle parti dei giocatori arancioni che però mantengono comunque il possesso palla ancora sulla destra in mezzo verso Simonetta spissa di testa favorisce l'intervento sulla fascia di un compagno che proprio commette fallo fallo commesso a danni di Morezzi e ennesimo calcio di punizione guadagnato dal numero 10 calcio di punizione battuto da Morezzi decimo minuto di gioco lungo lancio del numero 10 verso gli attaccanti con Tombesi che stoppa verso la conclusione e il gol improvviso da parte del Baci immobiliare con Tombesi a raso terra a sinistro all'angolino 1-0 per la squadra di casa che con lo scapicollo sorpreso si riparte decimo minuto di gioco 15 alla fine di questo primo tempo 1-0 del Baci immobiliare che l'ha sbloccata con un tiro dalla distanza da parte di Tombesi conclusione al volo con la collo sinistro che si è infilata all'angolino basso della porta difesa da Molon che non ha potuto fare nulla su questo tentativo dalla distanza attenzione a Lanzi che recupera un altro pallone supera la linea di centrocampo è prestato da due giocatori del checco dello scapicollo poi si trascina la palla fuori tentativo di contropiede fallito dal Baci che però è in vantaggio qui in casa tra le mure amiche della C10 con la checco dello scapicollo che dopo un buon inizio ha piano piano calato il ritmo fino ad essere schiacciato nella propria metà campo cerca adesso di reagire la squadra del presidente Andrea Testa Cuozzo porta palla la piccolo trotto scarica ancora verso un compagno che in mezzo a tutta la difesa del Baci immobiliare pesca poi Simonetta che è girato spalla alla porta deve girarsi Simonetta anzi era Gaeta gira verso Cuozzo largo sulla destra per Darpino ancora verso Simonetta finta per favorire l'intervento di Gaeta ma il velo non trova e l'accompagna alle sue spalle subito dall'altra parte Tombesi sulla sinistra solo contro tutta la difesa del checco dello scapicollo Tombesi punta la difesa del checco e poi va a segnare l'incredibile gol 2 a 0 ancora lui Tombesi in due minuti due gol 2 a 0 per i padroni di casa dodicesimo minuto di gioco 2 a 0 per il Baci immobiliare 13 primi alla fine del primo tempo che controllo scapicollo sotto incredibilmente di due lunghezze dopo aver subito entrambe le realizzazioni del Baci nel giro di due minuti doppietta per Tombesi due gol uno più bello dell'altro il primo con un tiro raso terra dalla distanza dove non ha potuto nulla il portiere perché si è insaccato all'angolino basso il secondo un'azione personale sulla sinistra progressione che poi ha trovato la conclusione vincente intanto c'è un tiro dalla distanza da parte di Cuozzo un potentissimo blocca anche se con qualche difficoltà del proposto che adesso va a riviare allarga sulla destra verso Morezzi che riesce addirittura a salvarla anzi no l'arbitro dice che la palla è uscita fuori rimessa la trale sulla sinistra per il Checo dello scapicollo che adesso deve ripartire dopo la doccia fredda la doppia doccia fredda subita Terribili gira sulla destra verso Tarpino che va da Simonetta porta palla sul sinistro mette in mezzo però addirittura questa girata grande parata da parte di Del Proposto che salva il risultato Checo dello scapicollo che prova a tornare sotto ancora con Simonetta che se la porta sul destro poi scarica verso Gaeta ancora per Accortese che prova il cross con l'esterno sinistro alla fine la palla capita tra le mani di Del Proposto che riesce a fare un po' d'ordine grande opportunità per il Checo dello scapicollo con questa sforbiciata all'interno dell'area di rigore risposta da parte della portiera del bacio immobiliare che per il momento mantiene o comunque permette alla sua squadra di mantenere le distanze 2 a 0 ancora Dombesi recupera la palla scarica verso un accompagno che ha qualche difficoltà nel controllo si tratta di Placido che gira verso Morezzi finta per Lanzi tiro da su terra rimpallato ma la palla è ancora del baci che adesso apre sulla sinistra conclusione dalla distanza ennesima deviazione e dovrebbe essere calcio d'angolo sulla sinistra quasi quattordicesimo poco più di undici primi alla fine di questo primo tempo 2 a 0 è rimesso a laterale con Lanzi che avanza ancora sulla sinistra gira verso Placido che prova ad accentrarsi scarica per un compagno c'è in mezzo ancora Tombesi che viene anticipato su questo cross verso terra poi sul rimpallo prova il tiro dalla distanza Colucci che termina altissimo sulla traversa della porta difesa da Molon Portese avanza palla al piede quattordicesimo ormai undici alla fine di questo primo tempo e la che coda lo scapicollo che attacca passaggio in verticale in direzione degli attaccanti con Colucci che però riesce ad anticipare sia Gaeta che Di Palma poi non mantiene il possesso il bacio immobiliare e concede ancora una rimessa laterale agli ospiti Cuozzo gira verso Terribili passaggio di prima in direzione di Gaeta che prova a lottare spalla alla porta contro il marcatore Gaeta va alla conclusione che termina però ampiamente fuori si rimane sul 2 a 0 qui al circolo sportivo Ciriaci ricordiamo che il bacio immobiliare viene nelle ultime 4 da 2 vittorie e 2 pareggi per quanto riguarda il checo dello scapicollo nelle ultime 8 7 vittorie e una sconfitta l'unica sconfitta contro il Cotton Club tra le more amiche della Stella Azzurra 3 a 2 vittorie di quella che al momento è la capolista di questo campionato con 51 punti 5 in più della Golbet a 46 e 7 in più proprio per il checo dello scapicollo Golbet che ha vinto nel corso di questa giornata contro la Cod 272 per 3 a 1 pareggio invece della Cotton Club contro il cottini Stefano Gomme adesso cerca di avvicinarsi il checo dello scapicollo ci prova intanto con questa conclusione che viene per l'ennesima volta rimpallata 15esimo 10 alla fine di questo primo tempo Quozzo gira sulla sinistra verso Terribili che prova poi la cross spazza la difesa della Bacci con Lanzi che poi controlla prova a scaricare verso Morezzi che non riesce a mantenere in campo la sfera Cortese la rimette ancora sul terreno di gioco verso Darpino cioè da movimento da parte ancora degli attacchianti si preferisce però tornare da Quozzo ancora Darpino terribili Quozzo verso un compagno che vediamo se prova a caricare il sinistro conclusione che termina poi sui piedi di Palma che non riesce a controllare ne esce ancora la difesa della Bacci con Tombesi che viene pescato prova a controllarla in mezzo a tre Tombesi se ne va salta Quozzo prova a saltare anche Cortese poi un rimpallo favorisce comunque il recupero da parte di Ponziani Morezzi va alla colpo di testa dopo il cross dalla sinistra colpo di testa che finisce però direttamente tra le mani di Molonna attenzione alla ripartenza con Di Palma che prova a dare in mezzo verso gli attacchianti che però vengono anticipati subito dall'altra parte con Tombesi in mezzo a due viene messo giù fallosamente vediamo però se l'arbitro fischia calcio di punizione oppure ci sarà solo rimessa laterale è calcio di punizione batte Morezzi Morezzi gira verso Lanzi ancora passaggio di torno per il numero 10 che prova a saltare un avversario Morezzi si accentra palla sul sinistro torna ancora da Lanzi conclusione di prima col destro alta sulla traversa diciassettesimo otto minuti alla fine di questo primo tempo vantaggio della Baccia Immobiliare doppio vantaggio del Baccia Immobiliare due gol nel giro di due minuti di Tombesi che stanno per il momento decidendo la partita ecco dello scapicollo che ha creato poco anche se era battito abbastanza bene nel corso dei primi minuti attenzione a questo rimpalo che favorisce ancora gli attaccanti della squadra di casa che però perdono la sfera la recupera ancora Simonetta che prova ad avanzare scarica verso un compagno che gira sulla destra per Di Palma conclusione parata non sicura di dire il proposto che però in due tempi riesce comunque a bloccare lungo rinvio da parte della portiera del Bacci direttamente nelle mani del suo opposto vuole dire Molon che fa subito ripartire i compagni con Terribili che gira verso Cuozzo apprezzato da Tombesi Cuozzo in verticale verso Simonetta che prova a caricare il destro poi se la porta sul sinistro doppio dribbling Simonetta entra in aria tiro fuori di pochissimo e intanto time out quando siamo giunti al diciottesimo setta dalla fine di questo primo tempo dopo il time out in campo chiamato dal Bacci Immobiliare si ricomincia per questi ultimi sette minuti del primo tempo con la squadra di casa avanti 2-0 contro il Checco dello Scapicollo doppio vantaggio ciclato da Atombesi due gol nel giro di nemmeno due minuti prima un tiro raso terra dalla distanza da poco fuori la limite dell'aria una sinistra che ha battuto la portiera Molonna il secondo invece in percussione sulla sinistra puntata tutta la difesa avversaria uno contro uno spalla spalla contro D'Arpino e poi è conclusione da posizione molto angolata sempre col sinistro raso terra che ha battuto per la seconda volta consecutiva Molonna stavolta sorpreso ora Cortese gira sulla destra verso Terribili che perde la sfera poi però Ila Bacci non la controlla e la palla che torna ancora dai giocatori in arancione con Acquozzo che avanza palla ancora sulla destra verso un compagno che prova a puntare Placido ancora passaggio di ritorno verso numero 8 che gira per Gaeta per il quarto campo verso Simonetta che se la porta sul sinistro scarica per Terribili gira la sfera del Checo dello Scapicollo con Cortese che va dall'altra parte attenzione intanto a questo incredibile gol gol del Checo dello Scapicollo che torna in partita con questo incredibile gol di Parroni che riesce a riportare a contatto gli uomini del presidente testa time out che evidentemente è servito alla squadra arancione che torna sotto con questo gol improvviso forse più improvviso del primo di Tombesi il piattone all'angolino basso che ha sorpreso del proposto da parte di Parroni proprio entrato da poco Parroni che ha riuscito a sfruttare un assist dalla destra e al volo addirittura a concludere alle spalle dell'estremo difensore del parco immobiliare adesso Molonna va a prendere la sfera anzi in porta non c'è stato mai Molonna ma c'è Troisi quindi ci scusiamo per questo errore è Troisi la portiera della Checo dello Scapicollo Cortese gira sulla destra verso Cuozzo che prova ad andare a Darpino ancora Simonetta Gaeta spalla alla porta deve girarsi contro il marcatore Ponziani cerca di fermarlo in mezzo a tre va ancora Darpino che però non riesce a controllarla valla troppo al dietro per il numero tre che poi cerca anche la tocco da parte di un difensore del bacio immobiliare gliela tira addosso ma non c'è stato il tocco secondo l'arbitro e quindi si riparte direttamente da Del Proposto che va a effettuare la rimessa in campo con le mani ancora il numero uno del bacio immobiliare verso Colucci che non controlla palla che sfila sul fondo rimessa laterale per il checco dello scapicollo Cortese contro Flacido prova a darla in verticale Simonetta gira sulla destra un'incomprensione con un compagno poi Gaeta riesce in qualche modo a mantenere il possesso gira verso Darpino che riesce ancora a mantenerla in campo ancora Gaeta si accentra dalla sinistra scarica verso Simonetta che va al tiro fuori di pochissimo deviazione providenziale da parte della difesa del bacio immobiliare che però concede una calcio d'angolo sulla destra siamo giunti quasi alla ventiduesimo poco più di tre alla fine Cortese in mezzo all'aria controlla col sinistro spara col destro alle spalle di Del Proposto pareggio del checco dello scapicollo sotto di due che adesso però torna in partita riagganciando il bacio immobiliare si riparte da centrocampo col bacio immobiliare costretto adesso a rifare tutto da capo ventiduesimo minuto tre alla fine più eventuale recupero due pari era passato in vantaggio il l'otto titolare del mister Matteo Dupachie due a zero con due gol nel giro di due minuti segnati entrambi da Tombesi poi però è arrivata la doccia fredda col pareggio anche questo segnato dal checco dello scapicollo con due gol in rapida successione prima Parroni poi Cortese due pari tutto da rifare per gli uomini di casa che adesso devono difendersi da questa iniziativa sulla sinistra di Valentini che prova ad accentrarsi si era portato la palla sul destro era stato fermato adesso ci sarà un fallo laterale in zona d'attacco che verrebbe tutto da terribili per la squadra arancione terribili verso Cuozzo che torna da Cortese che gira sulla destra ancora Cuozzo palla sulla sinistra verso Terribili scambio con Valentini terribili per Cuozzo triangolo questi chiude prova ad entrare in mezzo all'aria poi preferisce scaricare ancora per Simonetta gira per Parroni cioè Simonetta fuori dall'aria Parroni prova a puntare un avversario viene poi fermato dall'intervento di un difensore e quindi calcio d'angolo sulla destra palla sulla primo palla attenzione a Simonetta che si gira e conclude alto sulla traversa la rimette in campo del proposto verso Morezzi in direzione di Lanzi in mezzo a due va ancora da un accompagno si tratta di Placido che gira sulla sinistra ancora Placido in possesso palla c'è Lanzi preferisce andare ancora da Colucci che entra in area non controlla questo passaggio e la palla poi scorre sul fondo rimessa che verrà affidata al portiere Trovisi del Checco dello Scapicollo con Colucci che ha avuto un'ottima opportunità ha sbagliato l'aggancio il numero due su un buon passaggio di Placido che ha visto il suo inserimento ora a lungo lancio ancora dalle parti di Simonetta che viene però anticipato all'intervento di Morezzi che controlla la palla a centro campo aspetta la sovrapposizione di un compagno poi ci ripensa torna da Ponziani pressing altissimo da parte di Valentini con Ponziani che deve liberarsi della sfera Colucci Lanzi di prima in una direzione ancora di un compagno poi spazza la difesa del Checco dello Scapicollo con la palla che termina fuori rimessa laterale per il bacio immobiliare quando manca un minuto alla fine di questo primo tempo più eventuale recupero due pari partita emozionante due a zero era passato in vantaggio il bacio immobiliare grazie a due gol nel giro di un minuto di Tombesi pareggio da parte del Checco dello Scapicollo con due gol segnati nel giro di tre minuti da Cortese il secondo e il primo di Parroni attenzione intanto allo stesso Parroni che prova ad avanzare se la porta sul sinistro Parroni entra in area di rigore conclusione ennesima respinta della difesa rimpallo che porta ad un calcio d'angolo calcio d'angolo che potrebbe essere anche l'ultima azione di questo primo tempo primo tempo che era partito non certo a grandi ritmi ma che poi ha assolutamente rispecchiato quelle che erano le aspettative della vigilia vale a dire di una partita spettacolare per il momento con tanti gol con due squadre in campo che sicuramente a livello tecnico e fisico rappresentano il meglio di questa Lega Calciotto Cortese prova a suggerire verso un compagno ma non c'è più tempo finisce qui la prima parte di gara due pari tra Baci Immobiliare e Checco dello Scapicollo la partita sta per cominciare con le squadre schierate a parti inverse nel secondo tempo della gara Checco dello Scapicollo che gioca dalla sinistra alla destra dei voci delle schermi in completo arancione dalla parte opposta quindi dalla destra alla sinistra dei voci delle schermi si schiera invece il Baci Immobiliare che anche la squadra di casa in completo interamente nero ricordiamo che alla fine della prima frazione siamo due pari con il Baci Immobiliare avanti 2-0 raggiunto dal Checco dello Scapicollo nei minuti finali del primo tempo ora c'è un tiro dal centrocampo al momento della battuta con la parata da parte di Del Proposto insidiosissimo questo tiro addirittura da centrocampo da parte del Checco dello Scapicollo che ha provato a sorprendere l'estremo difensore della Baci Immobiliare adesso rimessa anzi calcio d'angolo sulla sinistra palla sulla secondo palla attenzione ancora uscita non certo delle migliori per Del Proposto che ha rischiato di farsi scappare la palla dalle mani ora Placido prova a girare verso un accompagno tentativo di inserimento di Ponziani anzi di Placido stesso che viene fermato adesso si riparte sulla destra con Darpino che prova a scotellare in mezzo in direzione di Simonetta spazza la difesa in nero con Morezzi che controlla mette un po' d'ordine gira sulla sinistra verso un compagno che riesce a saltare Darpino che arrivava Ponziani con la sinistra sbaglia la recupera Valentini Valentini entra in area Valentini intervento ancora di Ponziani che prima aveva sbagliato il disimpegno poi rimedia la grande con questo Tegel che ha veramente salvato il risultato perché sarebbe stata un'occasione potenzialmente pericolosissima perché con lo scapicolo ora ancora un tiro di Simonetta alto sulla traversa squadra ospite che ha cominciato a ritmo altissimo e la secondo tempo con già una serie di occasioni che si contano in questi primi due minuti Placido gira sulla destra attenzione al tiro palo clamoroso e poi la palla rimane lì viene bloccata dal portiere questa è sicuramente l'occasione più ghiotta di questo secondo tempo cominciato da soli due minuti con questo tiro dalla distanza sinistro da parte della pace immobiliare che però ha colpito il palo dopo una deviazione della difesa ecco lo scapicolo che per il momento si salva nonostante la squadra del presidente Testa fosse partita meglio nei primissimi attimi della ripresa adesso Simonetta gira sulla sinistra verso Terribili che favorisce ancora un accompagno cioè il movimento di Cuozzo in mezzo che però non viene pescato uno contro uno sulla sinistra con Morezzi a pressare Cuozzo gira sulla testa verso Darpino che prova a puntare ancora a Placido Darpino scarica verso Simonetta deviazione provvidenziale da parte della difesa del Bacci col numero tre che è riuscito a salvare ora attenzione a questo cross dopo la calcio d'angolo con la spinta valla ancora sui piedi di Simonetta che va alla cross però basso la sua terra catturato da Del Proposto ancora a lungo lancio verso gli attaccanti attenzione a Ponziani che controlla gira verso Placido Placido va al tiro palla fuori rimette in campo Troisi subito verso Capolei che avanza sulla destra attenzione al passing da parte di Ponziani con Cuozzo che ha qualche difficoltà adesso perde il possesso poi però lo riconquitta sempre Capolei che prova ad avanzare a centro campo ennesimo errore in palleggio la recupera Morezzi Placido prova ad avanzare scarica sempre verso il numero 10 che gira per la Lanzi due centrali manovrano la sfera Lanzi conclusione ancora diversione calcio d'angolo occasione per il bacio immobiliare che prova ad uscire dall'isolamento e dall'assedio del checco dello scapicollo tirando anche dalla distanza quarto minuto di gioco 21 primi alla fine della partita calcio d'angolo sulla sinistra per il bacio immobiliare con la squadra di Cassa che prova a tornare in vantaggio su questo calcio piazzato pala sulla primo palo che viene spazzata dalla difesa ospite ma i giocatori arancioni concedono ancora rimessa laterale e in zona offensiva con Darpino che va a battere verso Lanzi Lanzi prova e la tiro ennesima respinta poi però Ponziani di testa svetta su tutti sempre per il numero 6 la palla doppio palleggio salta un avversario scarica verso l'omonimo ed è Ponziani a colpire torna in vantaggio il bacio immobiliare quinto minuto della ripresa 20 alla fine 3 a 2 per la squadra del mister Matteo Dupachie 3 a 2 bacio immobiliare che torna in vantaggio grazie a Ponziani conclusione di sinistro all'angolino basso e Ennesi morì baltone della partita col piccolo della scapicolo che è chiamato adesso ad inseguire attenzione a questo uno contro uno ancora di Ponziani l'arbitro però non fischia non c'è falo secondo il direttore di gara e la difesa del che cosa lo scapicolo può rimettere in campo la sfera attenzione a Cuozzo ancora prestato da Morezzi che gira sulla destra verso Capolei poi Cortese attaccato da Placido Cortese torna da Troisi prestato da due giocatori perde la palla la recupera Lanzi che però non la controlla nel migliore dei modi cerca ancora Ponziani poi sempre Lanzi gira sulla destra verso Morezzi c'è largo sulla fascia un accompagno preferisce tirare Morezzi conclusione respinta ma non si ferma l'attacco del bacio immobiliare che adesso però perde per l'ennesima volta il possesso la recupera ancora Valentini sulla destra prova ad avanzare palla sul destro scarica verso Capolei che torna all'indietro da Parroni Parroni ancora carica il destro respinta da parte della difesa della bacio immobiliare che adesso se ne va in contropiede Ponziani Pescato Ponziani stoppa col sinistro prova a saltare Cortese ma ottima difesa da parte del numero 5 e che riesce con l'esperienza con la classe e anche con il fisico a opporsi alla tentativo di Sombrero da parte del numero 18 che a quel punto ci sarebbe veramente trovato solo davanti alla porta la rimette in campo ancora il checco lo scapicollo Valentini a centrocampo dopo il suggerimento di Capolei gira verso Parroni in mezzo a tre prova a saltarne due Parroni sulla destra verso Valentini che va al traversone respinto del proposto si rialza Placido che va a raccogliere la sfera prova adesso ad avanzare prova a tornare all'indietro D'Arpino la rimette in campo con la sinistra deviazione e rimessa a trale sulla sinistra ancora allora trale battuto con Lanzi che avanza in mezzo a due perde la pallone dopo l'errore nella suggerimento verso un compagno Valentini viene fermato fallosamente l'arbitro non concede il vantaggio ma da calcio di punizione al checco dello scapicollo settimo minuto 18 alla fine di questa partita 3 a 2 per il bacio immobiliare che ricordiamo era andato sopra 2 a 0 nel corso del primo tempo grazie ad una doppietta di Tombesi era stato raggiunto con due gol nello spazio di 3 minuti da parte del checco dello scapicollo grazie a Cortese e Parroni e poi è arrivato ancora all'inizio di questo secondo tempo il vantaggio del bacci con Ponziani calcio di punizione parata di il proposto la palla rimane lì e poi in due tempi ancora il tremo difensore della squadra di casa riesce a catturare la sfera Morezzi sulla destra è sceso direttamente in difesa ad andare a raccogliere la sfera però un lungo lancio in direzione di Placido troppo lungo anche per il veloce e tecnico numero 14 e si ricomincia dalla rimessa per il bianchecco con Cortese che gira verso Simonetta palla la porta viene fermato da Ponziani in mezzo a due Ponziani c'è largo sulla destra Amorezzi che viene adesso pescato c'è Lanzi in mezzo alla trequarti campo gevimento per lui intercetto della difesa calcio anzi rimessa laterale torna in campo intanto Tombesi al posto di Darpino con adesso il numero 11 che andrà a occupare la posizione di esterno sinistro Lanzi siamo giunti ormai all'ottavo minuto di gioco 17 primi alla fine della partita con il che cote lo scapicolo sotto 3 a 2 qui al Cirieci contro il Baci Immobiliare squadra di casa che è passata in vantaggio nei primissimi minuti di questo primo tempo con Ponziani e che adesso però deve difendersi dall'attacco degli offili Valentini prova ad accentrarsi dalla destra pesca un accompagno sulla sinistra c'è il movimento di Parroni attenzione Simonetta va alla conclusione ancora un palo una palo salva Mirko del proposto ora Lanzi verso un accompagno che sbaglia però il suggerimento palla che finisce direttamente fuori Cavolella li mette in campo passaggio di ritorno ancora per il numero 3 sempre sull'out destro verso Valentini che viene fermato fallosamente calcio di posizione già battuto con Cortese che gira attenzione all'intervento da parte di Morezzi che viene giudicato irregolare da parte dell'arbitro che però non va ad ammonire Morezzi rimette il campo il checco dello scapicolo dopo questo fallo commesso da Morezzi a danni terribili squadra in arancione che va ancora dal numero 8 Parroni sulla sinistra prova a puntare un avversario rientra sul destro perde la sfera ottimo te che è il difensivo da parte di Colucci che c'è da Morezzi vediamo se da sulla sua verticale verso Ponziani poi perde la palla cerca di riconquistarla Ineci la dago mette fallo e va anche a prendersi la prima ammunizione della partita ammonito Morezzi quando siamo giunti alla decimo minuto di questo secondo tempo e quindi quando mancano 15 primi alla fine della partita calcio di punizione con Parroni alla battuta attenzione intanto a questa traiettoria velenosa che poi si trasforma in un gol perché sottoporta Simonetta col colpo di testa pareggia la partita improvviso pareggio del Checco dello Scapicollo tre pari al C10 palla rimessa in campo dalla parte immobiliare undicesimo minuto tre pari improvviso pareggio come di improvvisi ne abbiamo visti tanti di gol in questa partita da parte di Simonetta attenzione alla palla sulla destra con il numero 10 Simonetta sempre onnipresente nel corso di questi minuti come lo era stato anche nel corso del primo tempo Quozzo prova a metterle in mezzo cross che viene intercettato da Morezzi che favorisce con la colpo di petto l'uscita da parte del portiere del Propotto tre pari in una situazione veramente di partita spettacolare qui alla circolo sportivo Ciriaci e dire che il ritmo non è elevatissimo ma la qualità dei giocatori in campo fa sicuramente la differenza adesso Tombesi la va a rimettere in campo con la rimessa Placido palla verso Lanzi che gira sulla destra per Morezzi che ha spazio Morezzi prova a puntare la difesa del Checco dello Scapicollo Morezzi Poi Parroni in esce col contropiede due contro cinque però pesca lo stesso Simonetta che però viene fermato possesso sempre proprio il Checco dello Scapicollo con Parroni che prova ad avanzare dribbling fermato dalla difesa del Baccio immobiliare che non riesce però a mantenere il possesso sempre Parroni per Simonetta che si gira sulla porta sul sinistro va al tiro ampiamente alto sulla porta difesa dal Propotto ancora una volta Checco dello Scapicollo con la qualità in attacco dimostra anche l'inferitoria numerica in questo caso nel reparto offensivo di saper mettere in difficoltà la retroguardia del Baccio immobiliare Lanzi in mezzo a tre gira sulla destra verso Colucci tornato in campo che dà a Morezzi spalle alla porta deve girarsi in mezzo a due perde la palla vediamo se la mantiene in campo perché con lo Scapicollo la lascia uscire e quindi favorisce una rimessa laterale Valentini se la porta sul sinistro prova a calciare arriva il tiro l'area è spinta da parte del Proposto la palla rimane lì la controlla la difesa della Baccio in qualche modo che però poi non ha una felice disimpegno fuori questo pallone ma il fallo laterale è per gli ospiti quasi tredicesimo tre pari la rimette in campo ancora che cosa lo Scapicollo con Parroni che adesso dopo aver ricevuto prova a tornare da Capolei salta un avversario Capolei se la porta sul sinistro poi pesca Simonetta che viene però fermato intervento in anticipo da parte di Placido e ha qualche difficoltà adesso a liberarsi del pallone in mezzo a due Placido con la sinistra svirgola ma il passaggio è comunque buono verso Ponziani che però quando si gira scivola favorisce il recupero da parte di Cortese sulla sinistra ancora verso Parroni che prova a puntare l'uomo c'è il movimento da parte di Cuozzo in mezzo all'aria Cuozzo veramente onniposente sia in attacco che in difesa adesso ancora Capolei gira da Valentini sempre Capolei riceve sulla destra lato corto dell'aria di rigore traversone doppia deviazione e poi alla fine tocco sotto da parte di Cuozzo che porta in vantaggio per la prima volta nel corso di questa partita il checco dello scapicollo 4 a 3 quando mancano 11 minuti alla fine della partita 14esimo minuto della partita di questo secondo tempo 11 primi alla fine della partita 4 a 3 che controllo scapicollo che per la prima volta nel corso di questo match è in vantaggio grazie alla Tafin vincente sottoporta da parte di Cuozzo che dopo la respinta sulla cross a sua volta deviato di Capolei è riuscito a segnare la 4 a 3 che pesa sicuramente come un macigno sulle spalle dei giocatori del bacio immobiliare che sono stati avanti per moltissimi minuti nel corso di questa partita ma adesso si trovano sotto attenzione ancora al recupero da parte di Gaida che se la porta sul sinistro finta il tiro scarica verso un compagno conclusione e arriva il 5 a 3 del checco dello scapicollo con il nuovo entrato Krasimir 5 a 3 per gli ospiti si riparte quindicesimo 10 alla fine 3 gol di fila del checco dello scapicollo hanno ribaltato il risultato si è passati al 3 a 2 per il bacio immobiliare al 5 a 3 per gli ospiti baci che ha ancora evidenti problemi in difesa che adesso perde ancora la palla Krasimir ancora un tiro respinta la recupera Ponziani che prova ad uscire ora c'è spazio per Colucci sulla destra che prova a pressare il marcatore alla fine l'ultimo tocco è di terribili rimessa la tralla in zona offensiva per la squadra di casa che adesso deve reagire sedicesimo 9 alla fine intanto c'è un time out vediamo anzi no c'è un cambio no time out time out sedicesimo 9 alla fine di questa partita dopo il time out chiamato dalla bacio immobiliare si riparte per questi ultimi 9 minuti della partita da sedicesimo qui della secondo tempo alla ciriaci con il accheco dello scapicolo avanti 5 a 3 contro il bacio immobiliare fino a 5 minuti di faramo addirittura 3 a 2 per la squadra di casa poi 3 gol in rapida successione degli arancioni che prima l'hanno pareggiata con Simonetta poi sono passati in vantaggio per la prima volta a concorso e poi hanno allungato con il neo entrato Krasimir che davanti alla porta ha siglato da 5 a 3 che poi in momento è il risultato che sta decidendo la partita diciassettesimo calcio d'angolo sulla destra per il bacio immobiliare palla sulla prima palla attenzione al colpo di testa deviazione poi in aria un tentativo di torre alla fine in qualche modo se ne va in a contropiede la squadra arancione con una gaeta che prova a scotellare difetto però Morezzi fa buona guardia anticipa gli attacchianti arancioni riesce a favorire l'uscita del portiere Tombesi prova ad avanzare sull'auto sinistro non c'è fallo sul numero 11 e quindi fallo laterale sulla destra per il checo dello scapicollo cortese pressato altissimo rimiascate l'area ancora per il bacio immobiliare dopo questo rinvio della difesa del checo dello scapicollo non certo preciso Morezzi allarga sulla fascia c'è spazio ancora per il numero 9 Caponetti che però non è riuscito a dribblare il marcatore ora contropiede 3 contro 3 attenzione sulla fascia attentativo da parte di Krasimir di puntare l'avversario scivola però il numero 9 Lanzi verso Ponziani col tacco per Caponetti che viene anticipato per cercare di mantenere la palla in campo ci riesce anzi no Arbido dice che è fuori 18esimo 7 alla fine di questa partita 5 a 3 per il checo dello scapicollo col bacio immobiliare che adesso deve cercare tutto per tutto nel corso di questi ultimi minuti per riuscire quantomeno prima ad accorciare e poi eventualmente a pareggiare che cosa dello scapicollo che è sembrato abbastanza solito nella disposizione difensiva che ha rischiato pochissimo nella secondo tempo con un solo tiro in pratica quello del golo per il baci che adesso vado ad anticipare con Tombesi la portiere vediamo fischia l'arbitro però c'è la munizione per lo stesso Tombesi la seconda di questa partita sempre per la squadra di casa calcio di posizione battuto da Troisi attenzione al pressing alto da parte della bacio immobiliare con qualche difficoltà per l'estremo difensore della Checco lo scapicollo che adesso rinvia Ponziani di testa va a favorire l'uscita del proposto dopo il lancio della difesa difesa della Checco che si è veramente salvata da questo tentativo di pressing asfissiante da parte dei padroni di casa adesso ancora Ponziani riceve allarga su da destra verso Morezzi che gioca da terzino destro in pratica contro Krasimir Morezzi supera linea di centrocampo arriva Tombesi a supporto Tombesi triangolo giocato con Accaponetti poi tiro rimpallato alla fine palla ancora verso Ponziani sulla sinistra Morezzi lungo lancio della numero 10 verso Placido anticipato intervento di Capoleiti favorisce ancora Troisi Paroni sulla sinistra torna ancora da un compagno pressing di Ponziani che cerca di levargli la palla si torna dal portiere Tombesi ancora attacca i portatori di palla avversari Krasimir a centrocampo riceve gira sulla sinistra verso Valentini che prova ad accentrarsi vada a cuozzo adesso con calma anche Cotto lo scapicollo fosse a sua palla non certo ad altissimo ritmo la squadra ospita l'interesse di far passare il tempo velocemente e conservare questo doppio vantaggio che per il momento dà ovviamente agli uomini del presidente Andrea Testa la certezza di conquistare la vittoria e di portarsi a 37 punti in classifica vale a dire a 47 punti in classifica scusate vale a dire uno sopra alla Golbet e quindi in seconda posizione a 4 punti dalla capolista Cotton Club attenzione ancora a Tombesi col colpo di testa che spara alto sulla traversa niente da fare ancora per il pace immobiliare che ci ha provato con le mani Troisi ancora pressing dei giocatori in nero poi riescono ad uscirne quelli del Checco che però non controllano Morezzi c'è Ponziani largo sulla sinistra che viene servito va ancora da Morezzi sulla destra prova a percussione Lanzi ancora Ponziani avanza Ponziani palla al piede gira sulla destra c'è il tiro respinto poi Tombesi torna sulla palla tentativo ancora di agganciare di girarsi rimpallo che però favorisce sempre il bacio immobiliare con Ponziani che gira verso Lanzi Lanzi punta la difesa va all'attiro alto sulla traversa abbiamo superato il ventunesimo minuto mancano in sostanza tre minuti e mezzo alla fine di questa partita più eventuale recupero siamo 5 a 3 per il Checco dello scapicollo con la squadra ospite che ha per il momento deciso la partita nel secondo tempo con tre gol di fila che hanno ribaltato il risultato Lanzi dopo questo calcio di posizione battuto due volte a centrocampo gira sulla destra direzione di Caponetti Lanzi si fa ancora vedere riceve e gira verso Tombesi Placido lato corto dell'area di rigore Placido torna da Tombesi che prova a puntare un avversario poi Placido la mette in mezzo in qualche modo sbaglia però la giancio e consegna la palla ai giocatori del Checco dello scapicollo che adesso si accentra novennesimo errore la recupera Morezzi se la porta sul sinistro Morezzi prova a saltare Cortese doppio rimpallo che però alla fine sfavorisce il numero 10 palla che termina sul fondo e rimessa per il portiere siamo giunti quasi al ventitresimo mancano due minuti e mezzo alla fine di questa partita più eventuale recupero 5 a 3 per il Checco dello scapicollo con la base immobiliare che cerca di attaccare ma che non crea occasioni che possiamo definire da gol attenzione ancora Placido Tombesi prova a scaricare ancora per Placido la intercetta capo lei Gaeta verso Cortese che gira ancora per un compagno attenzione all'anticipo da parte di Lanzi Ponziani si gira e tira ennesimo rimpallo con Cortese ancora a fare buona guardia sulla difesa Arancioni che adesso mantengono il possesso col pressing da parte dei neri lungo lancio in direzione sempre di Capolei Cortese perde la palla recupera Tombesi con Placido che va a scaricare verso Lanzi Lanzi verso Caponetti che prova ad accentrarsi la mette in mezzo ancora per Fonziani che viene anticipato ne esce la difesa del checco dello scapicollo Capolei verso Valentini che avanza palla al piede Valentini carica il destro poi ci ripensa prova il passaggio verso Crassimile che viene anticipato recupera Morezzi attenzione a Placido tre quarti campo Placido sul sinistro arriva Morezzi che entra in area di rigore va la conclusione che termina però fuori e adesso time out chiamato al checco dello scapicollo quando manca poco più di un minuto alla fine di questa partita due minuti alla fine di questa partita due minuti di recupero con il checco dello scapicollo avanti per 5 a 3 due gola di vantaggio nei confronti del bacio immobiliare due minuti alla fine della partita indica l'arbitro 5 a 3 per il checco dello scapicollo impresa difficilissima quasi impossibile per il bacio immobiliare che deve recuperare due gol in due minuti con le mani rimessa laterale con Quozzo che scarica ancora per un compagno lungo lancio Morezzi di testa intercetta la palla che poi capita tra i piedi di Krasimir che va addirittura al tiro da centrocampo cercando di pescare impreparato del proposto palla però alta sulla traversa Morezzi la rimette in campo devono sbrigarsi i giocatori del bacio immobiliare se vogliono recuperare questa partita lungo lancio di Lanzi verso Tombesi che stoppa in aria col sinistro prova a crossare in mezzo ancora restritto dalla difesa del checco che adesso temporeggia con Gaeta che non attacca ma preferisce ancora andare a mantenere il possesso palla la mantiene in campo la gira verso Quozzo che scarica sulla sinistra verso un compagno ancora sulla sinistra attacca il checco dello scapicollo che prova adesso tutto l'interesse a mantenere il possesso e far scorrere il tempo capo lei verso Krasimir dentro per Gaeta anticipato Tombesi adesso gira sulla sinistra verso Morezzi che avanza Morezzi tiro respinta calcio d'angolo e questa potrebbe veramente essere l'ultima se non una delle ultime se non l'ultima azione di questa partita con il bacio che ormai è destinato ad una sconfitta attenzione alla palla sul secondo palo tiro respinta davanti alla porta palla alta vediamo c'è ancora calcio d'angolo e ancora Morezzi a battere anzi no non è calcio d'angolo è la delegazione da parte di un giocatore sempre dei baci e quindi che conserva la palla e dovrebbe conservarla fino alla fine di questo match infatti finisce qui che con lo scapicollo batte baci immobiliare per 5 a 3 e sale in seconda posizione in classifica 47 punti a 4 di distacco dalla capolista da Cotton Club rimane in settima posizione il bacio immobiliare a 33 a 2 punti dalla sesto posto sesto e ultimo valevole per i playoff della Roma